Buongiorno a tutti, si è appena conclusa la prima giornata del weekend di gara di Suzuka del 2024. Abbiamo visto una prova libera 1 con tantissima azione, un incidente di Sargent e tante belle cose da dire e da raccontare. Purtroppo una prova libera 2 caratterizzata dalla pioggia che ha impedito alle vetture di girare per tantissimo tempo. Abbiamo solo visto qualche giro sulla pioggia con gomme intermedie per poi comunque arrivare verso gli ultimi 15 minuti dove bene o male tutti quanti sono entrati in pista e hanno provato a fare un tempo, ovviamente giornata da buttare via. Tracciato di Suzuka molto impegnativo per le vetture dove conta tantissimo l'aerodinamica e il carico aerodinamico delle vetture. Per questo abbiamo visto anche un diverso carico aerodinamico tra i diversi team in pista. Coloro che hanno portato una macchina più scarica sono anche coloro che di base hanno una vettura con un fondo che genera molto downforce. Questi due sono Red Bull che ha portato una macchina prevalentemente scarica sull'ala posteriore e Ferrari che ha seguito molto l'onda di Red Bull. Al contrario Aston Martin e Stake Sauber hanno portato degli pacchetti con molto carico aerodinamico cosa che può andare molto a favore di quello che è l'usura delle gomme e il graining visto che le basse temperature possono comunque portare del graining sulle coperture. Anche se in una pista come Suzuka dove l'asfalto è molto abrasivo questo fenomeno andrà comunque a non essere così tanto marcato. Chi ha portato una vettura più carica avrà sicuramente benefici su quello che è l'usura della gomma ma vedremo che potrebbe perdere parecchio tempo sull'ultima sezione della pista sul direzione prima della 130R e anche sul direzione finale. Nel resto comunque possono comportarsi bene. C'è da dire comunque che Ferrari ha portato nel box un'ala con un più alto carico aerodinamico. Nel caso comunque si rendessero conto che la macchina non funzioni così tanto bene anche sul degrado gomme o magari ci sia comunque una domenica veramente con tanta pioggia che più carico aerodinamico farebbe sicuramente la differenza. Abbiamo visto anche tanti aggiornamenti sulle vetture. Coloro che hanno innovato di più sono stati Red Bull e Aston Martin. Red Bull ha completamente rivisto il sistema di raffreddamento andando ad assottigliare ulteriormente quello che è l'ingresso dell'aria sulle pance praticamente sul labbro accanto alla testa del pilota. Andando però ad aprire delle feritoie nella parte esterna dell'alo a questa altezza circa per far defluire meglio l'aria all'interno del cofano andando anche a ridisegnare quelli che sono i condotti dell'aria verso i radiatori delle vetture. Sono andati a cambiare anche i piloni di sostegno degli specchietti per riuscire a indirizzare meglio l'aria all'interno di queste feritoie. Ultime ma non per importanza hanno fatto anche dei cambiamenti sul marciapiede del fondo. Aston Martin è stata quella che ha innovato un po' di più. hanno cambiato quasi totalmente la forma delle pance andando a creare dei solchi per migliorare il flusso d'aria verso il fondo e appunto per questo hanno introdotto anche un nuovo fondo. Ferrari ha deciso di concentrare la maggior parte di aggiornamenti della vettura verso Miami ed Imola. In questa gara hanno portato solamente un aggiornamento della cover della sospensione posteriore. Questo per comunque andare a ottimizzare un po' i flussi di micro aerodinamica indirizzati sempre verso la parte terminale della vettura. Entrando nel vivo dell'azione delle prove Libre 1 abbiamo visto un Max Verstappen molto aggressivo sul giro veloce seguito a ruota molto vicino da Sergio Perez e a due decimi un sempre brillantissimo Carlos Sainz. A seguire le due Mercedes con Russell e Hamilton, Leclerc, Alonso, Piastri, Zunoda e in decima posizione Norris. Ci saremo aspettati una grande McLaren, ora andremo a vedere quelli che sono stati i passi gara dei mini long run. Fuori dalla top 10 in ordine Ocon, Albon, Hulkenberg, Bottas, Stroll, Ivasa che è andato a sostituire Daniel Ricciardo visto che tutti quanti i team devono fare almeno due sessioni di prove libere in cui vengono messi in macchina dei rookie. A seguire Gasly, Joe, Magnussen e Sargent che a 15 minuti dalla fine in curva 7 tocca l'erba e finisce nel muro andando un'altra volta a distruggere la povera Williams già con un telaio offeso. Non ha potuto partecipare alle seconde prove libere, poco male perché comunque hanno girato veramente poco, Ricciardo è stato l'unico pilota che non ha praticamente mai girato avendo perso totalmente le prove libere 1 e le prove libere 2 ha compiuto veramente qualche giro così tanto per prendere un po' di confidenza con la vettura anche se comunque la maggior parte di questi sono stati fatti su bagnato. Bagnato che comunque ce l'aspettiamo per la gara di domenica. Andando un po' a vedere quelli che sono stati i mini long run ma veramente mini si parla infatti di 3, 4, 5 giri al massimo abbiamo potuto osservare come la Ferrari abbia della velocità di attacco quindi velocità del primo giro della gomma veramente molto forte e comunque rimane sempre costante questo tempo anche se Leclerc ha fatto solamente 3 giri. La cosa un po' più particolare è che Verstappen in questo mini long run con la stessa gomma è il risultato sempre più lento di Ferrari. Io andrei a prendere questi dati veramente con le pinze visto che comunque siamo in prova libera 1 non conosciamo alcun tipo di mappatura motore e alcun tipo di carico di carburante. Questi dati possono voler dire tutto come possono e assolutamente non dicono niente quindi prendiamoli sempre con le pinze ovviamente. Comunque per dovere di cronaca mi sembra più che giusto far notare una cosa del genere. Sempre per lo stesso discorso appena fatto ci sarebbe da segnalare che comunque anche Norris con una gomma gialla abbia girato in un mini long run ben più veloce di Sainz con la gomma rossa. Però vale lo stesso identico discorso di prima non sappiamo i carichi di benzina e soprattutto non sappiamo le mappature motore però da quello che possiamo vedere per il long run stato fatto da Norris ha avuto una gran bella costanza con la gomma. Come abbiamo potuto vincere anche dalle prime tre gare del campionato McLaren si comporta tanto bene su quello che sono le curve veloci quindi è una cosa che mi sarei abbastanza aspettato questa qua però non possiamo ancora decretare niente di certo vedremo nelle prove libere tre se faranno altri long run e poi soprattutto vedremo in qualifica come si comporteranno. Colui che ha fatto qualche giro in più con la gomma gialla ovvero Lewis Hamilton ci ha fatto notare che c'è un bel degrado gomma inizia comunque a consumarsi molto presto e a far salire i tempi in maniera abbastanza rapida. Credo sia una cosa abbastanza normale per una gomma del genere soprattutto che per una vettura che abbiamo visto che non è poi così tanto efficiente e che potrebbe appunto andare a mangiare le gomme con molta più cattiveria rispetto ad altre vetture. Poi per tutti tranne comunque Haas non sono riusciti a fare tanti giri consecutivamente e anche appunto i giri che ha fatto Hulkenberg hanno fatto notare che veramente con gomma rossa e gialla c'è un degrado molto molto elevato. Grazie anche a questa grafica di F1 telemetri data possiamo vedere come si conferma ciò che abbiamo detto in precedenza ovvero un Leclerc molto più veloce con gomma bianca rispetto a Verstappen e un alto degrado di gomma per chi andava a mettere la gomma rossa. E vediamo anche meglio da qui la costanza di Norris con la gomma gialla. Ripeto totalmente dati da prendere con le pinze. Mi sarei aspettato una conferma nelle prove libere 2 ma ha deciso di piovere in Giappone e quindi nada. Ultima cosa che terrei a farvi vedere è la differenza che c'è stata di giro veloce tra Verstappen e Sainz entrambi con gomma morbida con due giri e nel quale Sainz si è piazzato a due decimi da Verstappen. Vediamo qui come dal primo settore la curva 1-2 e la prima parte dello Snake Ferrari sembra un po' più veloce e più efficiente però comunque dato che qui conta molto quelli che sono i trasferimenti di carico è molto probabile che questa lentezza in più della Red Bull su queste curve veloci sia dovuta appunto da un carico di benzina maggiore. Però al contrario vediamo come nelle parti più veloci Red Bull si comporti molto molto meglio. Nei tratti dove bisogna invece andare a fare delle staccate un po' più importanti Sainz arriva e recupera del terreno. Queste sono state delle prove libere che ci hanno detto e ci hanno lasciato ben poco però è normale sono prove libere e non sappiamo tante cose. Sono dispiaciuto che non siamo riusciti a vedere una prova libera 2 più interessante quindi è tutto quanto rimandato alla prova libera 3 di domani mattina e poi alla qualifica. Sempre sperando che queste due sessioni siano asciutte. Grazie mille per aver guardato questo video fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci rivediamo nella giornata di sabato per andare a commentare prove libere 3 e qualifica. Vi auguro un buon venerdì.